Ciao a tutti ragazzi Stamattina mi sveglio e leggo una notizia Nintendo NX potrebbe non essere adottata di un lettore di disco Ma com'è possibile? Si sono bevuti cervello quelli del Nintendo? Vai con la sigla Capisco che sia morto Iwata Va bene Ma prima rileggo un Rumors Si va bene un Rumors Dove Nintendo non vuole competere con NX con le altre console a livello di potenza Con PS4 e Xbox One Va bene ci può stare ma poi è un Rumors Potrebbe anche essere che Nintendo faccia una console addirittura più potente Mi sono anche immaginato che sia competibile con il 4K Però è più una fantasia Ma adesso guardando questo progetto Noto che ha anche un controller simile al controller gamepad del Wii U Cioè con lo schermo e tutto il resto Ma la console mi sembra... Le dimensioni rispetto al controller è una cosa simile anche se non si capisce bene perché è un progetto Ma non ha il supporto ottico quindi niente più di... Mi viene da pensare che questa console sia in realtà il Wii U ma non il Nintendo NX Potrebbe essere uscito fuori da qualche dipendente che ha rivelato questo progetto Vecchio progetto del Wii U che avevano pensato di farlo prima senza lettore otti Poi hanno lasciato da parte e alla fine l'hanno fatto con questo lettore che legge dischi proprietari simili a Blu-ray ma non sono Blu-ray Ehi ragazzi naturalmente noi stiamo parlando di aria fritta eh Però a me lascia molto timore queste cose che leggo E Nintendo che lascia poche di dichiarazione anzi nessuna dichiarazione quasi nessuna Da quando è morto il nostro amatissimo presidente Iwata Non si sa più nulla escono rumors 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 Io spero che sul prossimo Nintendo Direct diano un po' di chiarezza Diano un po' di fiducia Poi dovrebbero mostrare almeno qualche candidato che possa sostituire Iwata Anche perché tra un po' di tempo mi sembra un mese o qualche giorno non so Dovrebbe esserci di nuovo un evento dedicato agli azionisti e gli investitori di Nintendo Per poter dare quindi un po' di fiducia Nintendo per favore niente cagate Grazie per la visualizzazione Ci vediamo nel mio prossimo video Iscriviti Iscriviti ora se non l'hai già fatto Subscribe 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 now Ciao